Oggi mi sento di dirvi che il mio percorso su Twitch per il momento si è finito Una cosa a importarvi da farvi capire è che Twitch per me non è stato un lavoro Ma porco tu ci hai mangiato con Twitch? Hai fatto un sacco di lavori Tanta gente ha creduto in te Come fai a dire non è stato mai un lavoro per te? La frate è bravo, chi c'è il pane non c'è i denti T'è stata tanta gente appresso Tante persone ti hanno dato consigli Dai che è però porco tu Ma è normale che è un lavoro, piavi in botto dei sordi La chiamo, cioè non mi risponde So sincero Gli ho mandato pure un messaggio di come stava, non mi ha mai risposto A me dispiace tantissimo perché io a Gaia voglio un gran bene Con lui al mio fianco ho solo più forza di fare ciò che voglio Perché mi stima e crede tanto in me È come tutti quelli che stavano in live da te Come tutti i tuoi amici credevano tutti in te Come Green ha creduto in Gaia Come Ance crede in Gaia Come io ho creduto in Gaia Come tutte le persone che io hanno ben hanno creduto in lei Come Anca credito in Gaia